E finalmente con questa abbiamo comprato tutte quante le case disponibili Succa testa e ciò Oh, sono contente, sono contente A meno che non se ne sblocchi qualcuna avanzando nella storia Ma non credo, non mi sembra Ma c'è un negozio qua dentro Ma dai, vendono anche gioielli Wow Oh, la madonna C'è un ascensore privato addirittura Ma che bella sta casa Wow, ma che figa Ma c'è sempre il solito televisore a tubo catodico Wow, stupenda, stupenda Questo fa il ballo della scimmia Vediamo qua che cosa abbiamo Ah, il nostro heliporto personale Ma porca miseria, ma sta casa a 40.000 dollari Ma sul serio? Porca troia, ditemi dove si compra che vado subito Ma dai, c'è anche un camino Ma che figo Ma che figata il camino Fammi vedere come posso migliorarla Allora, lo stile globale Di classe e ultramoderno Beh 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 Per una volta devo dire che comunque Lo stile ultramoderno non è male L'hom theater Solito televisore micro Micragnoso Tubo Oppure il 50 pollici La miseria anche con quadri annessi accanto Vediamo il tavolo Ah, non c'era nessun tavolo Tavolo domino Sul sedio Cioè la scelta è non avere nulla Il tavolo in cui giochi addomino E il tavolo da biliardo Ok Decorazioni Colonna Pianta E palo da lapdensa E devo dire che La colonna non è male Ma anche il vaso gigante E il letto Santo Dio Matri... Questo sarebbe un matrimoniale? Sul serio? Letto rotante Va bene Beh, che dire Abbiamo una piscina con annesso camino Mamma mia Sta a casa di uno chic assurdo Hi people of YouTube Welcome back to a new episode of Saintro 2 A parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Come avete potuto vedere ho appena acquistato anche quest'altra abitazione E... Beh, beh Devo dire che è caruccia Qua fuori tra l'altro abbiamo subito il nostro heliport Voglio dire Meglio di così Ci siamo lasciati la scorsa puntata Che il grande capo dei Ronin è appena arrivato in città Roccaforti ne abbiamo, no? Le ho già fatte tutte Perfetto Dobbiamo andare al distretto di Downtown Quindi ci andremo in elicottero E... Eccoci arrivati Facciamo un parcheggio Oh, per una volta che c'è il posto dove lasciare l'elicottero Direi che possiamo buttarci di sotto E aprire il paracadute Mi dai il punto dove mette il segnalino? Ovviamente Vediamo se ci arriviamo Non ci arriviamo, non ci arriviamo Ci siamo arrivati di pochissimo Ma siamo atterrati nel posto sbagliato Perfetto Per tristezza mi butto in acqua Vediamo qual è la prossima missione Canto Connection Mmm Questo è vero And if he's not Then we have bigger problems Sup How badly do you want the man who hurt Johnny Gat? Who is this? Junichi will be at Kanto tonight This is our chance for revenge Our chance? Who the fuck are you? Tu 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 Where are you going? I'm taking out the son of that bitch that killed Aisha Oh vengo anche io Mi lasci qua Oh no Povero Pierce Però questa è una cosa personale Mi dispiace Pierce Ma non puoi venire Me 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 Eeeh eccoci arrivati Sono qui per vendicarmi E voi non mi fermerete Maledetti Vieni qua tu Ecco fatto Tu sarai il primo di tanti Bastardi Dove ti nascondi Ah già ci aspettava Allora Usa L2 O R2 con il tempismo Per parare gli attacchi nemici Se pari con precisione Ovvero prima della via dell'attacco nemico E prima di venire colpito Parerai l'attacco Ok Aspetta Ecco fatto Scusami Non vedo Dai Forza allora Ecco fatto Dai Aiuto Ok lui non posso pararlo Dai Non riesco a girarmi Quando va così lento So stronzo Calmi Occupiamoci Uno alla volta Dai Vieni Ecco fatto Giuici Aiuto Eeeh no Ci ha colpito lui Siete in troppi qua Dovete capirlo Che vi dovete levare Vi dovete levare Dalle palle Tutti quanti Ecco qua Giuici Beccati Questo colpo in faccia Ah ma ne arrivano altri Ah no Sono sopra Mi sa Dai Forza Giuici Non puoi scappare Non puoi scappare Sei all'angolo Forza Forza bambini Venite qua E dai Madonna mia Ecco qua Ecco qua Dovete Crepare Tutti Beccati questo Giuici E dai E dai No dai Allora L'ho colpito Ma lui mi ha parato La vita gli è scesa L'importante era quello Dai Giuici Muori con un po' di onore Non scappare Codardo Ah quello dovrei dirlo io E dai Forza Forza bambini Ma dai Ma scusami come Cosa sta succedendo Perché mi sta continuando a colpire Ma dai Scusami io stavo puntando all'altro Perché continuo a colpirmi Che sono fermo Guardalo Testa di cazzo Stai buono Dai L'avevo preso al stampismo giusto Colpito Giuici Morto Con disonore Che successe Roba strana Vabbè Oh che fame ora Beh dovresti essere contento Sotto figlio Quel ragazzo mi serviva da 150 anni Mi disprezzi così tanto padre Ti faccio così schifo Bastardo Beh sicuramente era una Più di una guardia del corpo Era Più il figlio lui Che questo qua 500 dollari Va bene Corpo a corpo Ronin Yes Direi di andarlo a vedere Anche se effettivamente Il corpo a corpo Lo stiamo usando Sì e no mai Però abbiamo una clinica Esattamente qui vicino Anche perché la capoeira Sì è bella però Vuoi mettere Chuck Norris Che combatte con le arti marziali Che sta succedendo qua Perché sta terminando sta donna Poveraccia Aspetta che questa vi ha filmato Ora siete al sicuro ragazzi Dio mio Perché succede tutto sto casino Ma dai Ragazzi Se non sapete fare questo lavoro Ovvero uccidere Una cazzo di persona Aia che dolore Eccoci qua Arrivati alla clinica Certo che potevano fare Un posto più appropriato Dove insegnarti come combattere La clinica no Potevi andare in una palestra Che ne so No 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 La clinica Allora Stile di combattimento Ronin Vediamo com'è Bello Perfetto E la madonna Calcio rotante È esattamente quello che volevo Vediamo Questo È un bel colpo Questo è il calcio rotante Serie di calci Serie di calci In avanti Dio mio Perfetto Perfetto Vieni qua Dove vai No Vieni qua Dio mio Peccato che abbiamo già Completato le attività Del fight club Se no adesso Mi ci divertivo Aspetta Ah Sto coltellazzo Vieni qua Madonna mia Guarda Sono contento Dello stile di combattimento Dei Ronin Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti E Sperto E Sperto 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 Grazie a tutti.